Scambi culturali, stage formativa all'estero e nuove opportunità di lavoro. Questi sono gli obiettivi che l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e Commerciali e Turistici Gasperi Ambrosini di Favara intende raggiungere per i suoi allievi con l'avvio dei progetti Leonardo ed Esabac. Presso la sala dell'Istituto di Via Ceghevara, il referente dei progetti europei dell'Istituto, professor Giacomo Daina, ha accolto le delegazioni straniere coinvolte nei due progetti. Il progetto Leonardo mira ad organizzare degli stage formativi in azienda dei nostri ragazzi. Noi attualmente mandiamo tutti i ragazzi a fare degli stage durante una parte dell'anno scolastico nelle imprese locali. Poi una parte di questi, una parte più selezionata, un po' ridotta, ma parliamo sempre di 30-40 ragazzi, li mandiamo anche a fare stage al di fuori della Sicilia, ci appoggiamo spesso a delle strutture di Montecatini per esempio. Adesso stiamo provando a far partire degli stage all'estero. Stiamo lavorando con la Francia, con la Germania e speriamo tramite questa misura del progetto Leonardo di poter arrivare anche a questo scopo. Leonardo è un progetto rivolto a dieci studenti dell'Istituto Ambrosini che frequentano i corsi di cuoco, cameriere ed economia domestica e che sono classificabili nella categoria denominata giovani svantaggiati. Lo scopo dell'accordo siglato tra l'Istituto Scolastico Favarese e la provincia tedesca del Saarland è quello di consentire agli studenti selezionati la possibilità di soggiornare per tre settimane nei rispettivi paesi partner del progetto. Lo scambio di esperienze per gli alunni dell'Istituto Alberghieri dei due paesi servirà a perfezionare la lingua ed acquisire una maggiore professionalità. A Favara per definire dettagli del progetto è presente il vicepresidente della provincia del Saarland, Elfride Nicodemus. Abbiamo un titolo per questo scambio, si chiama Andare alle vecchie strade da nuovo. Vuol dire che tanti anni fa i siciliani sono andati da noi e adesso noi ritorniamo a qui, così un po' l'idea. ESABAC è un progetto multiculturale nato nel 2009 grazie ad un accordo siglato tra MIUR e Ministero Francese dell'Educazione Nazionale che consente agli allievi italiani e francesi delle scuole superiori di conseguire simultaneamente due diplomi con un solo esame, l'esame di Stato italiano e il baccalaureat francese. A promuovere il progetto nell'Istituto Scolastico di Favara era presente il professor Pascal Corazzà del Centre Culturele Francae di Palermo. Sono qua per proporre questo progetto che dà la possibilità e la prospettiva agli allievi di studiare in Francia con questo diploma che per il momento è sistemato in Sicilia, a Palermo e a Catania. Proviamo di sistemarlo anche ad Agrigento.